forse chissà funzionerà salta con noi che torniamo in serie a la 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 grande parma vittoria buona domenica a tutti amici dello zoccolo duro 2 a 1 contro il carpi la 37esima giornata MVP della partita lui Antonino Antonino Barilla grande Nino grandi gol andate a vedere pazzeschi avete presente il calcio non c'entra nulla grande Nino doppietta che non faceva da quando aveva 12 anni abbiamo portato a casa anche questi tre punti ma il Palermo non molla ha vinto Roboante 3 a 0 va bene così siamo tutti lì Frosinone gioca stasera contro l'Empoli il big match l'Empoli potrebbe speriamo non molli proprio adesso ormai è sicuro del passaggio in serie a però mancano 5 giornati è un tracollo quindi da vincere ragazzi non scherzate siete gemellati con noi quindi speriamo bene speriamo bene grandi prestazioni per Vacca Vacca ha giocato bene è entrato finalmente negli schemi di gioco di Daversa ed è stato uno dei migliori in campo purtroppo anche lui sfortunato insieme ad altri infortunato come Lucarelli e Munari che sembrerebbero un po' più gravi i loro infortuni scopriremo in settimana speriamo di no perché quest'anno siamo veramente non so c'è una sfiga a collecchio che io non capisco eh fate qualcosa perché esorcizzate i campi di allenamento che c'è qualcosa che non va nei ragazzi non ci possono essere tutti questi infortuni ma siamo sempre lì io vorrei sapere se a inizio anno ci fossero stati tutti tutto l'anno qui stiamo parlando di un altro campionato ma va bene siamo lì in lotta vediamo di farcela eh ieri a Parma dovete sentire che aria di Serie A grandi coreografie dei tifosi grandi cori si sente che stiamo tornando eh secondo me potrebbe non dico potrebbe guarda nessuno ci crede eh anche i più critici giornalisti dicono che sicuramente passerà al Palermo il Frosinone ma noi siamo lì intanto siamo lì secondi scontri diretti siamo avanti sia su Palermo che su Frosinone quindi a pari punti vedremo vedremo cinque giornate non ci interessa contro chi giochiamo chi gioca in campo il gruppo è fantastico guardate Sierra Alta ieri ha fatto una partita straordinaria ha fatto sei presenze quindi grande e giovane sono sicuro che se giocherà lui titolare secondo me farà una bella figura anzi potrebbe essere un plus per il futuro e chi abbiamo? Calaio sempre grande lottatore esperienza lì davanti di Gaudio fenomenale lui veramente ormai è in stato di grazia come tocca il pallone salta l'uomo l'ha ricoverato quello di Ieri del Carpi avete sentito? sta male eh? è ancora lì al pronto soccorso di Parma però è così eh la sfortuna si li guardi si li guardi anche lui sta sfornando grandi prestazioni ma un po' tutti alla fine dai ma i ragazzi sono stanchi eh gli infortuni mi sono anche quello la prova lampante ma siamo lì attaccati quindi Ciciretti non è entrato il mio Ciciretti non è entrato ma vedrete che servirà al momento giusto come Ceravolo speriamo che rientri ma chi gioca non importa questi ragazzi sono fenomenali hanno formato un gruppo fantastico finalmente hanno trovato la giusta quadra il giusto posizionamento e hanno capito cosa devono fare per riuscire a ottenere il massimo dai nostri mezzi quindi ci vediamo presto ancora una settimana vediamo stasera cosa combinerà il Frosinone ma se noi le vinciamo tutte non ci interessa cosa fanno gli altri il resto rimane a sé noi pensiamo a fare il nostro e forse chissà funzionerà grazie